250 anni dalla nascita di Beethoven, o meglio dalla sua presunta nascita. Si sa solo che fu battezzato il 17 dicembre 1770. Il giorno esatto in cui venne alla luce non è dato saperlo. Di certo ha vissuto la sua infanzia in questa casa di Bonn, dove adesso sorge un museo. Poi a 22 anni ha scelto di vivere a Vienna e qui ha trascorso il resto della sua vita, cambiando casa ogni sei mesi. Abbiamo completamente rivisto e ridisegnato l'intera casa, dice la responsabile del Museo di Bonn. Non è più un'esposizione cronologica, ma suddivisa per temi. Ogni stanza ha un tema diverso. Come è noto, il celebre compositore è stato afflitto dalla sordidità che ha tormentato la fine della sua vita, ma questo non gli ha impedito di comporre la nona sinfonia, da cui è tratto l'inno europeo.